Ufficializzata la giunta del sindaco Luigi Mennenna. La presentazione alla stampa si è tenuta lo scorso sabato nell'aula consigliare di Palazzo Baronane, dove alla presenza del primo cittadino i sette assessori designati per la gestione del governo locale, dopo una breve presentazione delle deleghe proprie assunte, hanno sottoscritto il decreto di nomina. Ufficializzata la giunta del sindaco Luigi Mennenna, la presentazione alla stampa si è tenuta lo scorso sabato nell'aula consigliare di Palazzo Baronane, dove alla presenza del primo cittadino i sette assessori designati per la gestione del governo locale, dopo una breve presentazione delle proprie deleghe assunte, hanno sottoscritto il decreto di nomina. Una composizione evidentemente mista, così come dalle parole del sindaco Mennenna. Io ho scelto il chiederio che secondo me erano le persone giuste da poter portare avanti il nostro programma, perché oggi ho presentato alcuni specificamente tecnici, come potete immaginare, e ne sono 4-5 soprattutto tecnici, gli altri un po' meno tecnici, un po' più politici, ma con esperienze chiaramente pregresse, che possono sicuramente far bene e dare questo cambiamento alla città. I primi obiettivi su cui puntare, su cui la giunta già dalle prossime ore inizierà a lavorare? Guardi, a noi abbiamo detto, intanto teniamo nei nostri primi 100 giorni quelle di mettere a puntino questa pulizia della città. Io ho incominciato a fare da solo, con grandissimi sacrifici, perché non è facile, perché non potevo solo immaginarmi di pensare alla città, alla pulizia, perché come ben sapete i problemi sono tantissimi e quindi adesso mi sento anche un po', come dire, un po' più sollevato, perché ci sarà l'assessore e insieme all'assessore cominceremo ad affrontare questa problematica. Pulizia e diserbo urbano dunque gli obiettivi in pole position da realizzare nei primi 100 giorni di governo, con la difficoltà tuttavia del periodo estivo incombente e con il conseguente rischio di non riuscire ad organizzare attività per la città e i cittadini. Intanto non ci stanno soldi sugli eventi, questa già è una bella notizia, in negativo chiaramente. Mi sono sentito, mi sto vedendo con il dirigente, stiamo buttando giù un programma, cercando di fare il massimo possibile, tenete conto che stiamo a luglio. La gente si immagina il cambiamento, ma il cambiamento non si può effettuare in 10 giorni o in 15 e manco in un mese. Teniamo in mente qualche progetto che mi immagino essere la festa dei quattro attari punto zero, perché dall'anno prossimo noi ripartiamo con la vera festa dei quattro attari, perché è giusto che questa città abbia di nuovo una festa nella quale si discropono le radici. Noi vogliamo riportare fortemente questa festa a Torre del Greco.